Anteprima è la vostra possibilità di un primo contatto con la voce e con il doppiaggio cinetelevisivo senza i costi di un vero corso e senza impegno di iscrizione successiva. Farsi un'idea precisa della propria condizione vocale di partenza, conoscere da vicino gli strumenti che il doppiatore usa in sala di doppiaggio e per chi non ha obiettivi professionali fare comunque un'esperienza piacevole e stimolante con la guida di un professionista. Quale occasione migliore di questa nella quale potete quasi per gioco provare a sovrapporre la vostra voce a quella di un attore straniero? Giusto per capire che cosa succede appunto, quindi indipendentemente dalla recitazione, in tutta libertà, in sostanza. Grazie per la visione!